ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti e bentornati nel canale oggi voglio fare con voi scopriamo le creazioni con gli squisher e con l'espac soft e voglio anche farvi vedere un po la differenza vi avverto che ho fatto dei danni nel senso che ovviamente era la prima prima volta che usavo questi materiali che mi hanno inviato e quindi le dosi a volte sono state un po incasinate comunque questo che vedete sul tavolo adesso sono fatti con lo squisher allora io ho fatto questo orsettino che metto così facciamo così ed è veramente veramente carino ed è molto morbido vedete ok poi ho fatto questo fiorellino tortina fiorellino villa anche questo è abbastanza morbido però non hanno la cosiddetta consistenza dell'anti stress è un po diverso sembrano quasi delle spugnette non lo so però c'è da dire che il colore mi piace molto cioè come io li ho colorati con i gessetti e mi piace molto come sono vedete che questo azzurro è un bell'azzurro questo lilla è un lilla e poi gli altri colori anche si notano che sono colori belli insomma accesi abbastanza questo è un cuoricino sempre villa sempre morbidoso poi ho fatto queste due stelline allora le stelline hanno un buchino dietro perché il come si chiama lo stampo era proprio per fare tipo i biscotti col buco o le ciambelline e quindi sono venuti così però sono carine queste devo dire sono un pochino più dure si vede che sono più spesse e sono leggermente più dure e poi passiamo a questi che sono avevo degli stampini rotondi e volevo fare tipo i macaron messi così adesso poi magari non so se li provo a fare oppure no e anche questi sono abbastanza morbidi sentite fanno anche come se avessero delle bolle dentro perché hanno delle micro bolle e diciamo che mi piace questo questo materiale però ovviamente non è il materiale vero e proprio degli squishy secondo me perché il vero materiale degli squishy è quello espac soft quello che adesso andremo a vedere ok questi sono gli espac soft ovvero delle esplosioni perché in pratica ho messo la stessa quantità più o meno di prodotto da uno all'altro ma questi hanno fatto una reazione molto più esplosiva sì infatti questi questi sono questi quindi nota la differenza cioè questo stampo è uguale e quindi direi che gonfiano leggermente di più e infatti si sono anche attaccati tra l'altro io sotto qua avevo provato a mettere degli adesivi e dei glitter quindi penso che non lo so sarà successo un macello questo è lo stampo a cuoricino che anche qua è lo stesso di questo come vedete gonfia tantissimo quindi se li rifarò metterò proprio uno strato di non lo so 5 centi 5 millimetri o massimo massimo un centimetro ma direi già tanto questo è stato il primo che ho fatto anche questo come vedete bello cresciutello bello paffuto e questi qua vabbè anche il fiorellino questo lasciamo perdere questo è un orso che è lievitato questo orso è lievitato un po troppo sembra che ci siano due orsi uno sopra l'altro comunque la cosa che mi piace di questo materiale e sicuramente la si chiama la morbidezza il cameraman suggerisce le parole ogni tanto grazie quello che invece mi piace un pochino meno e la colorazione vedete che questo aspetta facciamo così questo colore e questo in realtà quindi vedete che questo è molto molto più chiaro rispetto a questo sembra quasi un bianco invece questo qui si vede che lilla comunque adesso proverò proverò insieme a voi ad aggiustarli e ad estrarli dalla formina proviamo con questo aspettate però la consistenza ragazzi non c'è paragone ce la faremo che puccioso ecco questa è la consistenza squishy che io intendo sotto io gli avevo messo un unicorno giusto perché mi piaceva e però mi accorgo che è inutile perché è più bello visto così però vabbè comunque questo è uno squishino bellissimo aveva anche dei glitter ma quelli non si vedono però vedete la consistenza allora facciamo le prove vedete quanto è morbido invece un altro c'è più di così non va per quello mi piace di più questa consistenza sinceramente ora ne andiamo aprire un altro proviamo l'altro muffin si è anche attaccato ok l'abbiamo scasterato dalla formina e guardate che figo sembravi un muffin cioè proprio il classico muffin io sotto a questo avevo provato a mettere un adesivo dello stregatto e questo stregatto è stato risucchiato dal muffin quindi non è stata una buona idea mettergli stickers in questi stampi però sicuramente lo andrò a decorare proviamo la squishiosità di questo buona buona che bellino è proprio carino e anti stress non male è un po più duro dell'altro proviamo si è un pochino più duro dell'altro però vabbè adesso proviamo il cuoricino adesso proviamo il cuoricino e però questo aveva il coniglietto dietro guardate che carino super cute veramente come dice roxy è carinissimo e anche questo vediamo è abbastanza morbidino adesso adesso passiamo ai due disastri qua che poi io andrò aggiustare cioè penso che praticamente taglierò questa parte e lascerò solo l'orsetto perché così mi fa pena poverino sembra cammino uno zaino sulle spalle e non è molto carino da vedere e questi anche andrò a dividere sti funghi in qualche modo anzi io direi di iniziare proprio da qua aspettate che provo a prendere una forbice o un taglierino ok andiamo a scastrare il muffin numero uno che ha attaccato il numero due al numero tre ok oh mamma mia oh oh l'ultimo è stato un disastro totale allora mettiamo a posto il tuo stampino e guardiamo che bello sono tre funghi attaccati insieme in pratica no questi non sono proprio venuti tra l'altro sotto è ancora bagnato quindi non si è asciugato l'adesivo qua è proprio scomparso risucchiato questo è ancora un po' bagnato non lo so ed è durissimo oltretutto non si squiscia ma no non è stata una grande scoperta passiamo al povero orsetto il povero orsetto oddio si è incasterato l'orsetto aiuto mi sembra veramente che abbia lo zaino sulle spalle mi fa morire oh per carità aiuto ciao sono l'orsetto e vado a scuola eccolo qui questo è l'orsetto adesso andrò a tagliare la parte in eccesso proviamo a tagliarla ok ho sistemato l'orsetto gli ho tagliato la parte dietro non è venuto poi così male gli metterò poi dei dettagli però non è molto morbido anzi direi proprio che è abbastanza tipo secco quindi ho constatato che vanno meglio gli stampi piccoli quindi questi qua questa dimensione questa dimensione qua questa media insomma gli stampi grandi faticano un po' e diventano un po' bruttini insomma ecco qua questi erano le mie creazioni con i miei danni ovviamente quindi tutti questi qua li mettiamo tutti insieme come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicino in su scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questi materiali particolari insomma e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi